Poi faremo saldare le macerie. Poi faremo saldare! Poi faremo saldare le macerie. Poi faremo saldare! Poi! Poi faremo saldare le macerie. Poi faremo saldare le macerie. Poi faremo saldare le macerie. Elena, chiama Super 35. Non senza superiorità aerea, è troppo rischioso. C'è una monorotaia lì vicino. No, si vola. Credo che prenderò la monorotaia. Tu e le tue dannate giostre. Elena, traccia la rotta di qualcosa. Ricevuto, Sam! Devi distruggere quei fari prima che ti vedano. Li ho segnalati sul tuo radar. Ok, rallenta la monorotaia così posso prendere la mira. sta andando già alla velocità minima. Dovrebbe esserci un fucile silenziato a bordo. Assicurati che non ti sentano. Nessun problema. Bel colpo, Sam. Bel colpo, Sam. Bel colpo, Sam. Questo sarà ottimo. Ci sarà da divertirsi. Bel colpo, Sam. Nemico fuori combattimento. Ecco, Non. Il nemico è a ore 6, Sam. Spara dal retro del vagone. Sam, hanno lanciato dei missili. Devi sbarazzarti di quei fari. L'integrità strutturale a 50 per cento. Elimina i nemici prima che ti colpiscano. L'integrità strutturale a 50 per cento. Elena, traccia la rotta di qualcosa. Ricevuto, Sam. Bersagli! Devi distruggere quei fari prima che ti vedano. Li ho segnalati sul tuo radar. Ok. Rallenta la monorotaia, così posso prendere la mira. Sta andando già alla velocità minima. Dovrebbe esserci un fucile silenziato a bordo. Assicurati che non ti sentano. Nessun problema. Nemico fuori combattimento. Bel colpo, Sam. Bel colpo, Sam. Questo sarà utile. Nemico fuori combattimento. Non ti sento. Bersagli! Bersagli! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È esattamente quello che cercavo, ma va bene. Devi distruggere quei fari prima che ti vedano. Li ho segnalati sul tuo radar. Ok, rallenta la monorotaia così posso prendere la mira. Sta andando già alla velocità minima. Dovrebbe esserci un fucile silenziato a bordo. Assicurati che non ti sentano. Nessun problema. Bel colpo, Sam. Nemico fuori combattimento. Bersagli! Bel colpo, Sam. Bel colpo, Sam. Sam, bel colpo. Non. 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 Sam, bel colpo. Nem- Il nemico è a ore 6, Sam. Spara dal retro del vagone. Sam, hanno lanciato dei missili. Devi sbarazzarti di quei fai. Spara dal retro del vagone. 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 Bel colpo, Sam. Bel colpo, Sam. Persagli! Nemico fuori combattimento. Spara dal retro del vagone. Sbarrata, Sam. Saranno stati i robot della fanteria nemica. Gli esplosivi dovrebbero bastare. Gli esplosivi sono piazzati. Non bastano per abbattere la barricata. Dovrei piazzare altre cariche. Gli esplosivi sono piazzare. Esplosivi piazzati. Sam, allontanati da quella barricata. Ti farò sapere quando sarai oltre il raggio dell'esplosione. Ora puoi far detonare l'esplosivo. La barricata è andata, Sam. Vai alla monorotaia. Il Creon è diretto verso il centro della colonia. Si sta preparando all'atterraggio. Recevuto. Scendo alla prossima stazione e lo vado a cercare. Riflettori di luce ambientale sono andati. Affermativo. Scendo alla prossima stazione e lo vado a cercare. Grazie. Grazie. Grazie.